Sono 11 malati di covid ricoverati all'ospedale di Lecco, uno in terapia intensiva, ma seppur positivo, per problematiche non inerenti al virus. Intanto, dopo il rallentamento estivo, procede a pieno ritmo la campagna vaccinale. Lecco si conferma alla prima provincia in Lombardia, con una copertura che tocca l'87,45% di vaccinati sulla popolazione target. Sono soprattutto i giovani, gli under-19, da follare gli hub di Lecco e Cernusco. In poco più di due settimane si è passati dal 60,35% al 73,30% di vaccinati, consistente l'incremento anche tra i ragazzi tra i 20 e i 29 anni, dove si è passati dal 75,92% all'80,42%. I giovani, come ha detto lei, sono scattati. La prima notte di apertura degli slot dei dodicenni, 12-19, sull'apertura di 2.600 slot, nella stessa notte ne hanno bruciati 1.600. E la risposta dei giovani è stata molto forte. Le previsioni sono di arrivare all'84% di questa fascia di età, perché abbiamo già vaccinato con doppia dose il 49% dei giovani 12-19 e ne abbiamo il 32% in attesa della seconda vaccinazione, più altri 500 nuovi iscritti, più alte autopresentazioni. Crescono anche i trentenni, da 30-39 anni, che con il 72,98% delle adesioni attuali restano la categoria che ha aderito con minore slancio alla campagna vaccinale. Vaccinato l'86,68% di chi ha tra i 60 e 69 anni, l'82,13% tra i 50 e 59 anni, l'80,39% tra i 40 e 49 anni. Abbiamo aperto e manteniamo aperti molti slot, almeno fino al 12, per cui vale per i giovani, ma vale anche per quelli un po' meno giovani. E faccio riferimento soprattutto alla fascia di età 40-49, che è stata meno attenta e meno precisa. I numeri sono buoni, ma non sono così buoni come gli altri. Teniamo aperto chi vuole venga a vaccinarsi, qualsiasi età abbia, fino al 12, nei nostri due centri, a Palataurus e a Tecnoproba Cernusco, li riceveremo e vacciniamo tutti quelli che si presentano, per arrivare al massimo di copertura del nostro territorio.